E' il senso, no, in assoluto. Io ovviamente già comincio a pensare, ma forse la non posso, dovremmo fare così e voli, quindi forse diventa un qualche modo. Guarda che ormai! Casa Savoglia aveva come il motto, uno dei modi di Casa Savoglia era FERT, che significa femmina, è un acronimo, no? FEMINA EDIT RUINA TUA, per cui la femmina sarà la tua robina. Quindi immagino che c'è un casato che ha come, diciamo, un motto che lo rappresenta una frase del genere che mi sembra che, tranne nel caso mio personale, è così. Giusta la condanna piuttosto che giusta la condizione del carcere, poi se ne parla tanto. Però l'uomo privato della sua libertà, l'uomo a cui viene tolta la possibilità di uscire, è praticamente un uomo in ginocchio. Cioè dimostra completamente e per intero tutta la sua fragilità e tutta la sua umanità. Grazie a tutti! 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 In questi giorni Palazzo M diventa un posto bellissimo in cui la gente viene, frequenta, saluta, sente musica, vede una foto, vede una mostra, partecipa a eventi, quindi sicuramente sì. Sotto il profilo dell'ascolto devo dire che l'anno scorso qui ho sentito molta più confusione, invece questa volta c'è stato proprio un rispetto della manifestazione, insomma, del concerto. Questo è molto bello. A Latina mancano iniziative, un po' manifestazioni simili e forse servono? Ma sì, io devo dire che è così, però secondo me dipende molto da noi. Io credo questo. Non vorrei dare la colpa di questo a nessuno se non a noi. Grazie per la visione!